ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube della maschera riposta io mi chiamo mosè e in questo video voglio dirvi perché ho deciso di sostenere il gioco house of fado su kickstarter amici house of fado è un gioco nuovo gioco di vital la serda e di joao quintela martins sicuramente avrò sbagliato a pronunciare il suo nome comunque sono due designer entrambi portoghesi e anche il tema del gioco proprio fa proprio emana portoghesità per così dire da ogni da ogni suo da ogni suo anfratto allora amici abbiamo parlato varie volte già di vital la serda qui sul canale abbiamo parlato diffusamente del suo gioco the gallerist recentemente abbiamo ricevuto il suo gioco ce l'ho proprio qui di fianco a me anche se voi non lo vedete inventions evolution of ideas lo stiamo giocando in questi giorni e ne parleremo in futuro abbiamo già fatto l'unboxing e questo è un altro gioco appunto di questo designer però questo gioco allora la serda è famoso per i suoi giochi piuttosto corposi no piuttosto diciamo abbastanza dotati di una certa completa non sono i più complessi sul mercato come abbiamo già avuto modo di dire anche se hanno un po questa fama è una fama insomma forse costruita ad arte anche no attorno a questi a questi giochi però insomma non sono i più complessi presenti sul mercato sono giochi insomma di un certo spessore ecco però la serda ultimamente si sta dedicando anche a una specie di serie parallela di giochi un po più me di peso medio no un po più po più leggeri diciamo dei suoi giochi soliti per esempio qualche tempo fa ha fatto un gioco di chiamato mercato di lisboa o mercato adesso non mi ricordo il titolo esatto ma insomma era una appunto un gioco più light dei suoi soliti e anche questo house of fado è un gioco più leggero e tranquillo dei suoi soliti ok è comunque un gioco di peso medio è un gioco paragonabile insomma a quasi tutti i giochi di cui parliamo normalmente qui sul canale ok ecco in molti anche lo stesso autore forse nella campagna sapete che non lo so vediamo un po no non forse non lo dice direttamente l'autore nella nella campagna però ecco molti l'hanno paragonato a the gallerist cioè una specie di versione un po più light appunto del gioco the gallerist è un gioco di piazzamento lavoratori questo house of fado sapete cos'è il fado il fado è la musica tradizionale portoghese di solito si tratta di una musica diciamo delle delle ballate molto lente con solo voce chitarra spesso c'è una chitarra classica è una chitarra più tipica portoghese che non mi ricordo se abbia un nome specifico ok comunque appunto se andate a lisbona se andate in qualunque altra grande città del portogallo è pieno di locali dove sentirete è molto bello è una cosa proprio che caratterizza molto quelle quelle città non so se ci siete mai stati insomma cioè sentire dalle finestre dei locali questa musica così malinconica così suadente quindi è un tipo uno stile musicale che ha influenzato moltissimo la musica europea a molti a molti livelli insomma ci sono anche grandi capolavori della musica leggera italiana che possono essere etichettati come fado per esempio la canzone piazza grande lucio dalla per dire è un fado cioè proprio etichettabile come un fado ok ecco nel gioco voi siete i proprietari di un ristorante ok di un ristorante dove si fa anche fado però perché di solito funziona così i locali dove si fa fado sono locali in cui si mangia si beve no e nel frattempo si ascolta si ascolta questa musica meravigliosa ok quindi il vostro scopo è arruolare dei cantanti e dei musicisti per mettere assieme appunto queste serate per organizzare queste serate nel vostro ristorante ok quindi già qui riuscite a immaginare alcune tangenze con the galleries là dovevamo vi ricordate scoprire gli artisti promuoverli ecco qua dobbiamo fare la stessa roba coi cantanti e coi suonatori no dobbiamo scoprirle dobbiamo promuoverli ok dobbiamo farli lavorare nel nostro locale e dobbiamo attirare dei clienti nel nostro locale no e i clienti nel nostro locale sono dei meeple colorati proprio come i visitatori della galleria no della galleria d'arte in the galleries ognuno con una caratteristica particolare no quindi li attireremo nel nostro ristorante li faremo sedere ai nostri tavoli ok e dando loro da mangiare questi questi qui ci faranno guadagnare del denaro che potremo spendere per aumentare la fama appunto dei nostri musicisti no in una specie di engine building strutturato attraverso vari step ok e alzandosi in piedi questi clienti applaudiranno anche i nostri musicisti e così facendo aumenteranno ancora una volta la loro fama fama che nel gioco viene tracciata sulle tessere che rappresentano i musicisti da dei dadi quindi i musicisti hanno una fama che va da 1 a 6 che viene tracciata appunto tramite questi dadi vedendo le immagini del gioco vedrete un sacco di dadi ma questi dadi non vengono mai lanciati servono solo come indicazioni della fama appunto dei degli artisti tra l'altro sapete che mentre leggevo di questo gioco pensavo ma sarà una bella idea mettere dei dadi che poi in realtà non vengono mai che non sono realmente dei dadi non era meglio tracciare in un altro modo questa perché c'è come un dado cioè no quando mi metti un dado per le mani il primo mio istinto è lanciarlo non è usarlo per tema per un altro per un altro video forse fatemi sapere cosa ne pensate quindi amici questo è un gioco che mette assieme tante cose mette assieme il piazzamento lavoratori la gestione delle risorse l'engine building c'è anche un piccolo gioco di maggioranze c'è una specie di di billboard di tabellone dove si possono trasferire gli artisti dal dal locale e questi artisti possiamo supportarli questo billboard e c'è una specie appunto di piccolo gioco di piccolo gioco di maggioranze lì e un altro elemento che avvicina house of fado a the gallerist è anche il fatto che c'è questa meccanica di bumping penso che in italiano sia tradotto come scalzare cioè praticamente se un mio avversario occupa una certa azione io col mio lavoratore lo scalzo e il mio avversario ottiene un vantaggio dal fatto di essere stato spostato diciamo da quel da quel punto ok allora qui è più semplificato rispetto a the gallerist in the gallerist venendo spostati si poteva ottenere una executive action quindi un'azione diciamo in un certo senso parallela qui invece semplicemente gli spazi per i lavoratori hanno di fianco delle caselle dove spostiamo e sulle dove spostiamo le le pedine che abbiamo bampato e su quelle caselle sono proprio stampati direttamente i bonus che otteniamo quindi una roba molto più semplice molto più diretta quindi diciamo che è una versione forse più un po più light di the gallerist non poi così tanto più light a giudicare dal regolamento però un po più light forse un po più larga ecco forse più che più leggera è un po più larga un po più forgiving un po meno come dire ingabbiata no all'interno di una struttura rigida come comunque come comunque è the gallerist ok quindi ragazzi se vi è piaciuto the gallerist se in generale volete un po approfondire la conoscenza di questo vitala serda che comunque è un designer molto amato sostenere questo gioco può essere una buona idea sapete perché vi dico questo anche perché allora questa questa tutte le volte che viene fatta una campagna kickstarter per un gioco di vitala serda dovete sapere c'è la possibilità aderendo alla campagna di accedere al pledge manager che vi dà la possibilità a sua volta di acquistare tutti i giochi precedenti di vitala serda ok quindi spesso mi capita anche nei commenti sotto i miei video di avere persone che mi chiedono follower che mi chiedono come faccio a comprare questo gioco non lo trovo da nessuna parte no non sono semplicissimi da trovare questi giochi nei negozi è così che si fa ad averli ragazzi è così che ho fatto io ad avere the gallerist ok ho partecipato al kickstarter di un altro gioco forse on mars che non mi interessava direttamente ok però ho fatto l'offerta minima e potete fare l'offerta minima solo per accedere al pledge manager ok nel momento in cui accedete al pledge manager potete ordinare tutti i giochi precedenti di vitala serda the gallerist lisboa vignos on mars quanti sono inventions evolution of ideas di cui vi ho mostrato recentemente il kickstarter ragazzi quindi potrebbe essere una bella idea aderire a questa campagna se vi interessa appunto avere avere i giochi di questo autore ok nel pledge manager c'è però c'è sull'arte nella pagina della campagna sono proprio tutte le immagini dei vari giochi che appunto è possibile è possibile prendere ok tramite questa campagna cioè tutti i giochi precedenti appunto di questo autore allora amici parliamo un po dei costi quanto costa questo gioco vediamo un po allora io in realtà ho fatto un pledge che non include solo house of fado ma che include anche mercato dell'isboa ecco come si chiamava mercato dell'isboa che è un gioco che non ho ancora preso quindi approfitto di questa occasione per prenderlo ok e spendo 63 euro più tutte le spese accessorie varie ed eventuali però vediamo un po se riesco a trovare i vari livelli di pledge aspetta che forse non ci sono nella pagina della campagna porca miseria quindi devo andare vediamo un po manage cosa devo fare ragazzi manage your pledge se premo qua ragazzi non riesco più a vedere i vari livelli overview aspetta un attimo forse in overview no ragazzi non riesco a vedere cioè quanto costa il singolo gioco la pagina avendo già aderito non me lo fa più vedere fondamentalmente la pagina almeno qui sul pad non me la fa non me lo fa più vedere comunque vabbè vi dico quello che spenderò io no io spenderò scusate è partito un video scusate è partito un video allora io spenderò di house of fado e mercato de lisboa come vi ho detto 67 dollari ok corrispondenti a 63 euro però di due giochi ok però bisogna aggiungere la spedizione in italia cioè vediamo un po 24 dollari più le tasse ok quindi le tasse sono 67 dollari più 24 dollari che fa una novantina giusto di dollari più il 20 per cento 99 18 vabbè un po più di 100 dollari un po più di 100 dollari però per due giochi ok per due giochi tenete presente però che la spedizione è sempre 24 dollari anche se prendete solamente house of fado ok quindi vabbè non è un costo paragonabile a quello dei giochi grandi di vita alla serda però insomma vabbè non è neanche no adesso bisognerebbe vedere qual è la dimensione di queste scatole magari per capire un po meglio ma io in questo caso non posso aiutarvi però se guardate la pagina kickstarter che ovviamente trovate linkata qua sotto in descrizione forse potete farvi un po un'idea no perché vedete tutta la lista dei componenti e potete capire se è un qualcosa che vi sembri conveniente oppure no ok però ecco ci tenevo a fare questo video soprattutto per dirvi se volete un gioco di vita alla serda del passato questo è un buon momento questo è il momento per aderire a questa campagna fate semplicemente l'opzione più bassa diciamo che sarà di 5 dollari to ok e o addirittura 2 dollari a volte e avrete accesso al pledge manager nel momento in cui finirà la campagna e aprirà il pledge manager potrete ordinare tutti i giochi di vita alla serda che vorrete e li riceverete comodamente a casa vostra ok bene amici quindi questo è quanto fatemi sapere se questo house of fado vi sembra interessante ci sono tante preview che potete trovare linkate sulla pagina della campagna in cui potete vedere il prototipo potete vedere alcune partite giocate potete anche vedervi il draft del del regolamento quindi potete vedere più nel dettaglio come funziona come funziona il gioco e fatemi sapere se anche voi lo sosterrete e fatemi sapere se vi sembra una bella idea questo gioco io vi ringrazio molto per aver guardato questo video e vi do appuntamento ai prossimi contenuti qui sulla maschera riposta ciao ciao ciao